Le decisioni che prende la Regione su situazioni insistenti sul territorio algherese dovrebbero essere prese di concerto con il Comune di Alghero. Questo è lo spirito che ha animato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza sui motivi che hanno spinto la Regione ad affidare all'ente De Carolis la gestione temporanea della parte interna del Palacongressi. Per l'assessore Conoci il problema non è che quell'ente è di Sassari, ma che la gestione sia stata affidata in modo diretto, senza un bando e senza un accordo con il Comune, ad un ente privato. Grazie